Linea di soccorso del DUP, vuole segnalare un incidente di natura bioterroristica? Indovini un po', un bioterrorista ha imbrattato un altro cartellone, come posso vivere così? Ho riconosciuto la sua voce signore, non è divertente, lei rischia grosso. Bene mia cara, vi aspetto. Grazie a tutti. Vuoi qualcosa che ti ralleghi? Ma che... E tu, al marciapiede? Vedete cos'era quel rumore? Una lotta all'ultimo di... E' di nuovo quel tizio! E' di nuovo? 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 E' di nuovo?